Vincimenti del terrorismo. In Italia, il nostro paese ha dato un punto a questo fenomeno e io credo che il senatore si concorderà con me che ognuno di noi in 30 secondi davvero possa dedicare un pensiero al vincimenti del terrorismo prestando in silenzio. Grazie. Io vado veloci ultimamente per una scaletta che è improntata, solamente dando immediatamente la parola al nostro candidato sindaco Enzo Carpoli. Vincimenti del terrorismo prestando in tutta Italia. Francesco ha fatto l'impossibile, ha fatto l'impossibile questa riguardo a terra con me. Sì, se ci sono i disoccupati, però facciamo parlare a un disoccupato. Non ci sembra il solito. Se ci sono, ci sono i disoccupati. Allora, dimostri, dicevo che la campagna elettorale è in tutta Italia. Quindi, ringraziando tutti coloro che stanno qua nel nostro partito, ringrazio Don Matteo Racinco che ha avuto questa bella idea di fare una manifestazione tra i nuovi dell'Api, aperta a tutti. Allora, Gianni, Francesco, noi prima abbiamo presentato la lista di questi uomini e noti che tu hai visto qui presenti sul palco. Sono un'unica donna che appartengono ai vari cittadini sociali. È un'interagionalità di persone oneste, laboriose, motivate e desiderose di impegnarsi per il riscatto di cattolio. Noi abbiamo visto tre donne. Io mi auguro che in un giro comunale ci siano molto, ma molto più donne presenti. Perché le donne con la loro sensibilità, la loro capacità, spesso sono più indispensabili degli uomini. La nostra squadra che abbiamo presentato è una squadra di gente per bene, di gente che non è stata unita dal Signore in questo o quel palazzo di Alta Gola, 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 di Alta Gola. Grazie. Francesco, noi qui a Casoria possiamo dire di aver messo in pratica alcune direttive che sono uscite fuori dall'Assemblea nazionale di Roma nel 2 e 3 aprile, in cui c'erano degli indirizzi. E uno diceva di caratterizzare le elezioni amministrative con una buona politica, fatta di candidati autodevoli, buoni comportamenti di re e giustizia, alternativa alla tecnologia che si è impossessata dei vari schieramenti politici, rispetto ai quali l'Adi si propone come innovazione della politica raffreddibile. E quindi questo con la nostra vista, con i nostri uomini, che a Cattolio lo stiamo facendo. La seconda direttiva era di dare nuova rotevolezza alle nostre istituzioni, modificare e condizionate nel quotidiano dalla distrosità politica di una classe dirigente autodeferenziale, e incapace di dare prospettiva alla nostra volontà di un'attività. noi istituti questo, a Cattolio, programmi, guidare dei valori, Flippi e Pimping, hanno avuto una grande dimensione. Hanno visto davanti gli indirizzi, ma anche i problemi. Ciao, lì. Ciao, lì. Ciao, lì. Ciao, lì. Sì, sì. 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 Siamo democratici e non da sopra. Siamo democratici e non da sopra.